L'indagine è complessa, tanti ancora gli ostacoli nella strada che porta gli inquirenti al killer dell'arma. Ma i punti fermi ci sono, a partire dall'identità della vittima, Roberto Checucci, 53 anni di fucecchio, disoccupato. Viveva con la mamma, 91enne, in via Battisti, in un appartamento al primo piano di un edificio dove abita anche il fratello Gilberto. È stato proprio quest'ultimo a denunciare ai carabinieri la scomparsa. Il secondo è il luogo del delitto. Roberto Checucci è stato ucciso nello stesso punto dove è stato ritrovato. Troppo grosse le macchie di sangue rinvenute sul terreno. Se fosse stato ammazzato da un'altra parte, nel tempo del viaggio i resti ematici si sarebbero iniziati a coagulare e non ci sarebbe stata la copiosa dispersione. E poi c'è una telecamera nella zona di via De Tavi, a Castelfranco, che ha ripreso Checucci domenica intorno alle 8 del mattino, mentre cammina sull'argine dell'Arno. È verosimile quindi che il delitto sia avvenuto poco dopo, tra le 8 e 30 e le 10. Nessuno ha visto niente e nessuno ha sentito gridare. È stato un agguato in cui, presumibilmente, Checucci è stato preso alle spalle e ucciso a colpi di cacciavite o coltello. La vita del 53enne era trascorsa apparentemente senza ombre. Non era sposato, non aveva figli e non frequentava luoghi associativi, contrade o circoli. Ed è sempre rimasto lontano anche dagli ambienti della droga. Niente, insomma, lasciava presagire ad una fine così tragica. Ai carabinieri il compito di sbrogliare la difficile matassa.